Fratelli interisti e sorelle interiste e anche tutti gli altri, buongiorno e buona domenica. Nel video precedente ho fatto un taglio perché era troppo lungo e non volevo annoiare o che comunque qualcuno abbandonasse il video senza aver visto la seconda parte, che è quella che sta per incominciare. Quindi adesso vedrete un taglio e io che proseguo come se niente fosse. Non fateci caso e godetevi questo secondo video della giornata. Allora, però volevo approfittare di questo momento anche per fare una cosa che non l'avevo ancora fatto, una piccola pagella, una piccola pagella di quello che ho visto ieri. Non di tutti i giocatori perché diventerebbe troppo lungo e forse anche noi oggi, però di qualcuno sì. Allora, partiamo dai zaghi. Il mio voto è 6, meno, meno. Non posso dargli di meno. Perché comunque la partita l'abbiamo vinta. Però ha perso, secondo la mia valutazione, l'8 che gli avrei dato togliendo bastoni, che non avrebbe dovuto toglierlo secondo me, e poi ha perso anche il 7 per aver messo bisseca sinistra. Quello per me non si deve fare. Non si fa, non si fa. Vuoi cambiare bastoni perché è stanco, ti sembra che non ce la faccia più... ok, va bene. Va bene. Ma almeno mettici a cervi come braccetto di sinistra, che là già... ed evrai come centrale. Ruoli che hanno già svolto anche l'anno scorso in maniera, diciamo, soddisfacente. A destra ci puoi mettere bisseca, puoi tenere bisseca, oppure se non ti convince mettici Pavard, che magari adesso magari l'hai visto più stanco, non tanto a posto, allora in ogni caso se non hai nessun altro ci lasci bisseca. Non devi fare i cambi per forza. Perché fare esperimenti durante una partita importante, e tutte le partite di campionato sono importanti, l'abbiamo visto, non si fa. Sarebbe meglio non farlo, ecco, è il mio parere ragazzi, è soltanto il mio parere. Non si fa, sarebbe meglio non farlo. Magari lo fai, se sei, non so, se stai perdendo, sei in un momento di disperazione, ti metti a fare degli esperimenti, come poi ha fatto il Milan quando ha dovuto affrontare noi, che ha fatto questo esperimento di mettere quei quattro davanti, e gli è andato bene, hanno fatto benissimo. Bravo Fonseca. Però, a parte momenti particolarmente difficoltosi, direi che gli esperimenti sarebbe meglio non farli. Magari li puoi fare se stai vincendo 4-5-0, allora sì, dai, butti là un bisseg sulla sinistra e vedi cosa succede. Se no, no. Allora, Sommer, 7, ah io gli do 7 a Sommer, ha preso due gol, ma non aveva colpa, non è stata colpa sua, non poteva farci niente in nessuno dei due casi. Non ha fatto altre parate che possano meritare il 7, semplicemente perché non ci sono stati altri tiri in porta. L'Udinese ha fatto due tiri in porta e due gol. E in entrambi i gol Sommer non poteva farci niente. Però, però, è stato bravo ad aiutare la squadra, sia nella fase difensiva, sia nella fase di costruzione, di impostazione del gioco. Non ha perso palle, non ha rischiato, i passaggi sono stati tutti giusti, tutti fatti bene, quindi un bel 7 per me se lo merita. Lautaro, 8, 8, l'8. Due gol e un assist, che non si è concretizzato, ma intanto lui l'assist l'ha fatto. Il primo gol è stato forse un po' fortunoso, diciamo così, la palla si è un po' ingambarellato nella palla, come diciamo noi in Romagna, ingambarle. Però va detto che era nel posto giusto, al momento giusto. E non è cosa facile, soprattutto per uno che non è altissimo, districarsi davanti e in mezzo ai giocatori della difesa, ci si è messo davanti Lautaro e Lautaro, ragazzi. Magari non è stato il Toresco come al solito, però ha fatto il suo, ha fatto il suo e quindi si merita un 8. Se fosse stato ancora più Toresco, gli avrei dato anche 9. Solo che anche lui non è al top della forma e quindi 8. Mi sembra che 8 sia il voto giusto, poi ditemi voi. Correa, 6 e mezzo. Sbalordito da Correa, avevo fatto una faccia quando è entrato, dice mamma mia no, Correa. E poi me lo toglie al posto di Lautaro. A proposito, Inzaghi, questo è un altro motivo per cui il sei meno meno. Mi togli Lautaro all'ottantacinquesimo. Che senso ha? Se è stanco che non ce la fa più, toglilo prima. Se invece è stanco ma ce la fa ancora, non toglierlo. Voglio dire, ha messo su Correa che ha fatto bene, ha fatto benissimo, infatti gli ha dato 6 e mezzo. E anche qua si ha fatto gol, che non è riuscito a farlo soltanto perché il portiere è stato bravissimo, ma ha fatto una gran parata. Di Marco, 8, 8. Molto bene Di Marco. Ha gestito bene la fascia e fatto cross importanti, che poi non sono diventati gol, ma lui intanto i cross li ha fatti, li ha fatti molto bene, molto bene. E poi ha segnato un gol. Quando? Direte voi, no. Quando? Quando? Ha fatto quell'intervento che vale come un gol. Quell'intervento, quel salvataggio lì che il calciatore, non mi ricordo come si chiama, ha calciato. Lui ci ha messo il piedino, ci ha mandato la palla in calcio d'angolo. Però non ho visto bene se ha calciato, se ce l'ha messo lui direttamente. A me sembra che abbia calciato l'attaccante. E poi dopo lui, piedino davanti e palla in calcio d'angolo. Quello per me vale un gol, perché neanche lì Sommer ci avrebbe potuto fare niente se la palla fosse passata. Credo io, eh. Credo io. Gli ho dato 8, ma se almeno uno dei suoi bellissimi cross fosse andato a segno, fosse diventato quindi un assist. Un assist e qualcuno avesse segnato il nome, per quel che mi riguarda non glielo toglieva nessuno. Per quel che mi riguarda. Ditemi voi. Turam, sei meno. Sei meno. Niente progressioni e niente dribbling. Non ha fatto danni, eh. Non ha fatto danni, ma si è mangiato un gol. Anche se non era poi così facile da segnare, perché insomma era lì. C'era il difensore che lo stava buttando a terra, infatti ha tirato cadendo. Però alla fine dei conti la palla non è andata dentro, diciamo. Mettiamola così. Ma non è stato, non ha fatto danni, ma non è stato neanche incisivo. A parte il passaggio all'autaro. Che non definirei un assist, perché poi la palla è arrivata all'autaro, ma l'autaro se l'è dovuta gestire. Non è che ha dovuto semplicemente tirare in porta. Se l'è dovuta gestire per riuscire poi a tirare e poi dopo ha fatto anche gol. Il meno che gli ho dato è perché è un po' molle. Non è da lui farsi buttare a terra così facilmente come è successo ieri. In alcune occasioni, non sempre, però in alcune occasioni l'hanno buttato a terra. E non è che si è tuffato. L'hanno proprio buttato. Quindi è un po' molle anche lui. Un po' molle, un po' molle. Fratesi, sette. Anche lui come Turan non ha fatto danni, a parte mangiarsi un gol. E non essere stato tanto incisivo. Se non fosse stato per il gol segnato, al primo minuto, grande gol, gli avrei dato sei. Perché di più non mi sembrava che si sarebbe meritato. Non un meno come a Turan perché, insomma, da lui non ci si aspettano progressioni, dribbling o cose spettacolari. E non ci si aspetta che sia come Barella. Barella è un tipo di giocatore, lui è un altro tipo di giocatore. Bissec 5. Sono molto addolorato di questo. Ma mi tocca dargli 5. Mi è simpatico. È bravo tutto quello che si vuole. Però, ragazzi, ieri si è fatto scappare Semura che poi ha crossato al centro e hanno quasi fatto gol loro. E l'avrebbero fatto se non fosse stato per Di Marco. Quindi Bissec lì non è andato bene. In occasione del primo gol, poi, dell'Udinese, si sposta indietro invece di andare davanti all'attaccante. L'ho già detto, vero? Mi sembra di sì. Si sposta indietro. Parte il cross e si sposta all'indietro invece di andare davanti. Probabilmente ha pensato perché c'era un giocatore che è partito alle sue spalle. Allora lui si è fatto indietro. Non era di lui che doveva preoccuparsi. Lui doveva preoccuparsi di quello che aveva davanti perché, tra l'altro, dalla traiettoria della palla si capisce che ha mai giocato a pallone. Insomma, si capisce doveva finire la palla. Si capiva che non andava laggiù indietro ma che sarebbe finita più davanti a lui. Quindi, magari ha sbagliato ad andare indietro però poi non è tornato avanti per andare a contrastare l'attaccante. E quindi l'attaccante ha potuto colpire di testa totalmente indisturbato. Bissec 5. Questo risponde un pochino alla domanda come mai che prendiamo questi gol dalla tre quarti. Perché siamo poco lucidi. Siamo poco lucidi. Siamo poco lucidi. Anche lui quindi è molle, lento. Siamo poco lucidi perché siamo stanchi, ragazzi. Io continuo a rimarcare queste cose. Che cosa devo fare? Non ci sono altre cose da rimarcare. O Bissec è scarso e non lo è. Oppure è poco lucido in questo momento. Io non vedo altre ragioni. E comunque mi pare che il 5 ci possa stare pieno. Non gli ho dato 4. Se no gliel'avrei dato. Non gli ho dato 4 perché lui non è abituato a stare a sinistra. Lui deve stare a destra. Lui era fuori ruolo, fuori posizione, fuori tutto. E quindi era probabilmente, penso io, un po' spaesato. Quindi dai, 5. Riguardo a tutti gli altri, impera anche con loro questa leggera stanchezza di fondo che impedisce loro di essere lucidi, di essere pronti, scattanti e tutto quanto. Io adesso confido, 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 spero, anzi sono convinto, che in Zaghi prenderà delle contromisure. Anche adesso, perché adesso, martedì, c'è la stella rossa. Essendoci la stella rossa, forse è il caso di prendere le contromisure. Perché dai? Fare dei cambi, turnover mirato, per far riposare quelli che sono più stanchi e più importanti. Perché io penso che se ci diamo una mossa, se teniamo duro, dovremmo riuscire a farcela con la stella rossa anche con le seconde linee, che sappiamo, o l'ho già detto, che sappiamo non essere proprio all'altezza delle prime linee, per cui, però, però con la stella rossa non dovrebbero esserci troppi problemi, non dovremmo incontrare troppi problemi per vincere, perché dobbiamo vincere. Se non vinciamo con la stella rossa, con chi dovremmo vincere? Con l'Arsenal? Non lo so. Io, ecco, noi dobbiamo fare in modo da essere pronti. E io penso che sia Inzaghi, sia i preparatori atletici sanno benissimo cosa fare e per adesso tiriamo avanti come possiamo. Spero di un turnover mirato, come ho appena detto, ma voi ditemi la vostra. Ragazzi, mi sono protratto per un po' troppo a lungo in questa cosa, però c'erano due o tre cose da dire e allora ho pensato di dirle. Iscrivetevi al canale, come vi dico già qui. E niente, absolute burdelle e burdelli e forza inter, forza inter. Calma, non preoccupiamoci, ok? Non preoccupiamoci. Per adesso va tutto più o meno, quasi, quasi, come deve andare, perché tutto quello che stiamo vedendo, tutto il negativo che stiamo vedendo è conseguenza di quello che è successo quest'estate. Nazionali, niente riposo e tutto quanto. Anche gli altri avranno gli stessi problemi. Può darsi che loro siano... ne abbiano di meno, che abbiano qualche nazionale in meno, qualche nazionale in meno che è andato a giocare. Non lo so, non lo so. Poi gli altri non me ne frega niente. Che facciano quello che voglio. Io penso all'Inter, ok? Oh, ciao burdelli. Ciao. Ciao.